per otto minuti. Grazie Presidente. Presidente Draghi, il Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin ha recentemente dichiarato che la Russia vuole riprendersi i territori che le appartengono, ha detto. Vuole tornare ai suoi confini storici. Questo vuol dire non solamente tutti i confini dell'Unione Sovietica e quindi Ucraina, Moldavia, i paesi baltici, Georgia, ma se conosciamo la storia anche i confini zaristi, Finlandia compresa e parte della Polonia, Varsavia compresa. È chiaro che la Finlandia si è preoccupata e chiede di entrare nella Nato, è chiaro che l'Est Europa si preoccupa perché Putin ha dichiarato che ha delle mire su tutto l'Est Europa. Ma le preoccupazioni nostre non finiscono qua perché le istituzioni russe hanno spiegato finalmente che cosa intendono per denazificare l'Ucraina. Ce lo hanno spiegato dicendo che l'Ucraina non esiste, non esiste la nazione ucraina, non esiste il popolo ucraino, non esiste la lingua ucraina. Ma la propaganda nazista dal 1990 in poi ha creato un nazionalismo ucraino antirusso e quindi adesso la Russia con la sua operazione speciale deve rieducare gli ucraini e farli capire che loro non esistono ma sono bensì russi. Ora, a noi che siamo occidentali questo sembra un'assurdità, ma chi è cresciuto nei regimi comunisti e a grande dimistichezza con i centri di rieducazione, beh, tutto questo è normale e va in quel verso. A me dispiace dover sprecare dei minuti per togliere qualche fake news che gira sui nostri media ma purtroppo anche dentro questo Parlamento. la guerra sarebbe stata mossa per fermare il genocidio in Donbass. Ma questa è una fake news, è una fake news russa ripetuta in Italia anche in questo Parlamento. Al di là della faccenda che il Donbass non è russo perché, dati alla mano, il 40% del Donbass è abitato da russi. Ma i numeri ufficiali sono i seguenti e sfido l'italiano che sente abitualmente la nostra televisione ad avere questa percezione. I morti civili in Donbass nel 2021 sono stati 25, nel 2020 26 morti civili, nel 2019 27 morti civili. Nessun genocidio in corso, nessun genocidio da fermare. Da dove nascono i 14.000 morti di cui sentiamo parlare? Dal costo soprattutto di combattenti ucraini e filorussi dovuti all'invasione russa del Donbass. In uno schema che conosciamo perché la Russia ripete sistematicamente, cioè creare delle zone di conflitto negli stati che rivendica. Vale per la Transnistria in Moldavia, vale per la Skazia, vale per l'Ossetia del Sud in Georgia, vale per il Donbass in Ucraina. La Russia vuole semplicemente il dominio sui territori che rivendica, Ucraina compresa. Il problema è che gli altri Stati non sono d'accordo con la Russia. Non sono d'accordo perché la Russia non è uno Stato attrattivo. La Russia è uno Stato povero, ha un PIL inferiore a quello dell'Italia, nonostante abbia 145 milioni di abitanti. È un Paese che non produce nulla, esporta solo materie prime come un Paese del terzo mondo. È un Paese con enormi disparità di reddito, con una enorme corruzione, dove Putin e i suoi gerarchi ostentano una ricchezza miliardaria che non si sa bene da dove provenga, mentre 20 milioni di russi non hanno neanche il bagno in casa. Questa è la Russia. Non c'è da stupirsi se l'Ucraina, come il resto dell'Est Europa, guarda a Occidente e non guarda alla Russia. Ma la Russia, invece di chiedersi il perché di questo, decide di intervenire con i carri armati. Per fortuna l'Ucraina ha resistito a questa invasione che secondo qualunque analista militare doveva durare pochi giorni. La Russia ha invaso l'Ucraina e l'Ucraina ha stupito il mondo con una resistenza mai vista prima, senza le armi delle quali ha bisogno. Anche questa menzogna ripetuta da certi giornalisti, non so se perché pagati dal Cremlino o perché in mala fede, e da certe forze politiche secondo la quale l'Ucraina è già stata armata a sufficienza, è smentita anche questa dagli analisti militari. Gli ucraini combattono con un pezzo di artiglieria ogni 20 in possesso dei russi e con minore città e minore capacità di fuoco. La resistenza è solamente dovuta all'eroismo di quel popolo. L'Ucraina sta vivendo il suo risorgimento, si sta battendo per la propria libertà e per la propria indipendenza. E noi da italiani che il risorgimento l'abbiamo vissuto e che abbiamo trasformato quella che gli altri chiamavano solo un'espressione geografica, nella nostra patria dovremmo avere un'empatia nei confronti di questo popolo e del suo risorgimento. Ma le scelte politiche non si fanno con l'empatia, si fanno con la ragione. E allora il perché dobbiamo sostenere l'Ucraina? Ce lo ha già spiegato il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. È molto semplice perché lì sta l'interesse nazionale italiano. Primo perché le dichiarazioni di Putin sono già molto chiare. Se l'Ucraina capitola velocemente poi toccherà ad altri paesi europei. E a noi, di Fratelli d'Italia, non piacerebbe il ritorno dell'imperialismo sovietico, pure nel terzo millennio. E poi, molto pragmaticamente, perché non è l'Italia che decide le sorti della guerra in Ucraina. C'è un dibattito surreale, come se le armi italiane fossero fondamentali per decidere se l'Ucraina riesce a resistere o no. Anche se l'Italia dovesse tradire le proprie alleanze internazionali, Regno Unito, Stati Uniti, Australia, Giappone e tutto il resto dell'Occidente continuerebbero a difendere l'Ucraina. E allora no, non cambierebbe la sorte della guerra, ma cambierebbe l'immagine e la credibilità dell'Italia nel mondo, facendo ripiombare l'Italia in quel paese, poco affidabile come spesso è stata dipinta. Fratelli d'Italia e il movimento dei patrioti italiani, prendiamo le nostre decisioni solo e sempre nell'interesse della nazione. Questo oggi vuol dire rispettare le nostre alleanze internazionali, come deve sempre fare una grande nazione come la nostra. Grazie.